Torna quest'anno, come ormai tradizione, la giornata fai d'autunno. Come ben si sa, le giornate fai durante l'anno sono due, quella di privavera più nota perché ormai si festeggia da tantissimi anni e quella d'autunno da alcuni anni. Sarà l'occasione ancora una volta per fare una festa insieme a tutti i cittadini italiani. Abbiamo scelto Mendatica questa volta perché è un territorio di Liguria, non Liguria costiera, non Liguria di mare, ma Liguria di montagna. Si trova all'interno del parco regionale delle Alpi Liguri e ci è piaciuto in modo particolare perché rappresenta non solo i beni storici, artistici, culturali, ma anche un discorso ambientale e naturalistico che, come ben potete immaginare, sta parecchio al cuore al FAI. Quest'anno il FAI ha lanciato la campagna nazionale Salva l'acqua. Questa risorsa importantissima, indispensabile all'uomo, ma non illimitata. Salva l'acqua vuol dire alla persona, ai cittadini, di ricordarsi di questo valore importante. E a Mendatica una particolare attenzione sarà proprio posta sul tema dell'acqua perché parleremo di cascate della Roscia. Mendatica, questo paese cosiddetto torre della Valle Roscia, si trova alla testa di questa valle appunto della Roscia, così ricca d'acqua. Quindi parleremo di acqua nella natura, ma anche acqua nel lavoro e nella produzione perché uno dei punti centrali sarà il complesso del Molino dove potremo far vedere attraverso l'esperienza del mugnaio che sarà lì presente l'impianto in funzione e a fianco al Molino ci sarà anche la centrale idroelettrica. Acqua sarà anche un problema perché a Mendatica è nota anche per l'alluvione, per il dissesto idrogeologico. Quindi vorremmo declinare questo discorso in tanti dei suoi aspetti. Quest'anno abbiamo deciso proprio Mendatica come fulcro dalla nostra giornata fai d'autunno. La giornata inizierà alle ore 10 con un'escursione che partirà da Piazza Roma fino alle cascate della Roscia e ritorno. È un'escursione molto facile, dura due ore. Iniziamo tutti a iscrivervi e prenotarvi sul posta elettronica imperia.fi.giovani.fondoambiente.it Saranno due gruppi, partiranno di 25 persone l'uno e partiranno appunto dal centro della piazza dove troverete i nostri volontari e le nostre guide che vi accoglieranno. Inoltre avremo da offrirvi la visita guidata della chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso, la chiesa di Santa Margherita, una chiesa di impronta romanica con dei bellissimi affreschi all'interno. Faremo una visita al caseificio in cui i proprietari potranno mostrare come viene prodotto il formaggio. È un appuntamento su prenotazione alle ore 11 riservato ai nostri iscritti FAI. Alle 4 e mezza ci sarà un incontro presso la sala multimediale di Mendatica e parleremo appunto del discesso idrogeologico e del problema grandissimo che affligge Mendatica, quello della paleofrana. L'incontro si chiama appunto gestione della risorsa idrica per ridurre il rischio idrogeologico e il caso di Mendatica. Abbiamo invitato due geologi, il geologo Macciò e il geologo Arrighetti che appunto esporranno in maniera molto semplice ma molto efficace appunto il problema di Mendatica. La buona riuscita di queste giornate è dovuta spesso non solo a tutti i nostri volontari che come sempre ci danno una grande mano ma anche le comunità locali che ci accolgono a braccia aperte di solito quando proponiamo la giornata FAI. In questo caso un ringraziamento particolare al Comune di Mendatica e alla Proloco.